mi dispiace la macchinetta si è fermata mentre stavo lavorando allora continuo questa maniera qua mmm credo che smetto qui ce n'è fin troppo buongiorno sono Enrico e qui ho ancora trovato due fogli di carta fatta a mano in Thailandia. Questa era un pacco perché avevo comprato un grande libro fatta a mano e questo era impacchettato in questa carta qua che io non volevo buttare via quindi ci faccio un lavoro di sottile qua lo prendo qui perché voglio fare un esperimento gocciolando invece di disegnare gocciolando dell'acrilico nero sul sulla carta. Ho bisogno di una guida è così è così ruvida che non si può neanche disegnarci sopra ecco perché voglio fare quella cosa lì il capelli a ricci questo è questo signore intanto non serve troppo il disegno qua ecco ecco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qui ho un contenitore di plastica con del colore nero che incominciava a diventare duro perché ce l'ho da anni. Allora l'ho messo nell'acqua e la voglio usare gocciolando. E' un'altra maniera di disegnare questa qua. Naturalmente non posso regolare.